Hi guys, fa la galera, hola chicos, ciao ragazzi E oggi siamo qui su Deathmatch a squadra in veterano Perché ho, come potete vedere lì, ho lo specialista glitch Non perché mi piaccia anzi, ma perché mi mancano circa, credo, o tre o quattro doppie Tra cui questa glitch, ondata di calore, che cercheremo di fare anche in questo video E ripristino sicuramente, non so, non mi ricordo se mi manca forse quella del live Non mi ricordo, non sono sicurissimo Proviamoci qui, sono con un amico, un filidido Ho scelto il KN44, ho fatto una mini classe per il KN44 veterano E giustamente mi hanno subito acceso con il Razorback lì dal centro Mi hanno anche fottuto qui Io già non è che sono chissà quale campione, me la cavicchio Ma su veterano è tutto un altro gioco, è molto più difficile Cioè, è un gioco totalmente diverso Buono questo Colpo alla testa, perfetto L'avevo visto Ti ho visto, ti ho visto Prendilo, dai Vediamo se qualcuno qua è al centro Visto che è la seconda partita che faccio La prima mia Per fortuna non ero riuscito a fare la doppia Vediamo lo avvi, raga C'è qualcuno qui Preso No, c'era un altro lì, raga C'era un altro lì, c'era un altro lì C'era un altro dietro, stanno sparando dietro Oh, questo è salito sopra Ha ucciso tutti e tre, una tripla Vieni qui, vieni qui No Mi ha ucciso il compagno Vabbè, andiamo al controattacco Ma figura di questi cazzi Non serve un cazzo Anzi, forse potevo risparmiarmelo Devo fare meglio le classi, raga Non ho Ho subito fatto le classi senza pensarci Ho sbagliato C'è qualcuno lì Preso Abbiamo glitch, raga Abbiamo glitch E lo sfruttiamo ora Madonna Il timing era perfetto Nooo, per pochissimo, raga Per pochissimo Stavo facendo una mega giocata, raga Ah, porca Eva Ok, raga Vediamo un po' se c'è qualcuno qui Sono in casa, sicuro Madonna, che tristezza Che tristezza Guardateli Guardate che tristezza Guardateli Che sta arrivando Ma quel compagno di merda che mi uccide lì Ma ne vogliamo parlare, raga Era in serie Mi mancava pochissimo per Non so che c'ho comunque l'ultimo, mi pare Forse c'ho l'hater Sì, quasi sicuramente Non so Là c'è qualcuno, raga Ce n'è forse un altro Eccolo qui Non abbiamo ancora glitch Voglio usare glitch appena Passiamo, lo useremo Stiamo al centro e sopra Tanto questo è il loro gioco Può essere che abbiamo cambiato di spawn Eh sì, raga Abbiamo cambiato di spawn Hitmark Non dovevo Ho preso Ma un altro ce n'è stava, raga Ho preso E mi hanno ucciso Vabbè, abbiamo il glitch, raga Proviamoci di nuovo Dobbiamo fare una cazzo di doppia Non è impossibile Quello è morto Ok No, questo era L'accompagnolo Questo è un nemico? Che cazzo stava facendo? Mi stava guardando Alla dietro Ok, vediamo un po' Vediamo un po' Ragazzuoli Vediamo un po' L'hanno fatto fuori Buono in testa Eh, di ladra Non posso farci niente Ok, raga Vediamo ora Vediamo ora Di farlo ora Allora Uabi Distrutto Abbiamo una macchina Di guerra distrutta No, non l'ha preso Di momento qui non è una bella cosa Qui sta facendo quello Eh, mi ha ucciso Giustamente Ci dobbiamo provare, raga Siamo addirittura I muri in squadra Non so come Se è possibile Abbiamo quasi già finito il deathmatch Nel caso ci rivediamo Al prossimo deathmatch Senza problemi, ragazzuoli Esce qualcuno qui Viene qualcuno di qui E noi ci facciamo da dietro, raga A questo punto Affanculo Camperoni di merda No, l'hanno fatto già Quindi non possiamo far Più un cazzo Preso, non so come Morirò sicuramente Va bene così, raga Eh, 99 e 100 Ci vediamo al prossimo deathmatch Ok, raga Eccoci al secondo deathmatch Questa volta ho fatto la classe Con il Razorback Diamante Come potete vedere E raga Io direi di Skippare il video Almeno Passate solo ai momenti salienti Ok, ho fatto questo Perché se no è inutile No, no, no Mi uccide Non uccide Cazzo No, cazzo L'hai camperato Vabbè, raga Vi Ci vediamo direttamente Sperando che Riesca a fare questa Dannata Doppia Mori, cazzo Dai, muori, muori Dai, raga Che manca poco Manca poco Alla fine Viacquino Ci vediamoci Ok, forse c'è qualcuno qui Oh, c'è qualcuno Dai ora Dai, dai, dai Feloce, veloce, veloce Sì Sì, sì, sì Doppia, doppia, raga Questa è doppia Questa è doppia Dai, non scherzare Attacco sorpresa per due Dai, dammolo Dammolo, dai Eccolo Via, ragazzi Bene così Vabbè, ci vediamo direttamente Con l'andata di calore E poi vi faccio vedere E poi vi faccio vedere tutto Ok, raga Siamo qui Quest'altro ha scelto il meno uore Siamo su Nuketown Ovviamente Come avevo detto prima Mi schippo direttamente Appena Abbiamo fatto Sta dannata doppia di calore Dai Ci vediamo subito dopo Dai Spero Eccolo qui Oh Ho ucciso C'è qualcuno Sì, l'ho più libera Con lo spawn Oh Buono così Aspettiamolo Ok, raga Devo usarlo Ora devo usarlo Perché ci piace Se c'è qualcuno Dai Sì Buono così Ucciso Ottimo E questa è una doppia Non parlo Che sia una doppia Non è un po' Via così, ragazzi Anche l'arrivo Allora Vi porto subito in lobby Così vi faccio vedere un po' Che cosa ho sbloccato E che cosa Andiamo un attimo a vedere Cosa ci manca Questo l'ho ucciso Oh, cazzo Vabbè Ragazzi Ci vediamo subito in lobby Dai Ciao Ok, ragazzi Siamo in lobby Come vi avevo promesso Vi faccio vedere un po' Come Quando è di calore Come è la testa Bellissima Diablo rossa Bella potente Aggressiva E vi faccio anche subito vedere Raga Qual è il prophet Sì Con glitch Eccola qui Guardate che figa La testa cyberpunk Blu Raga, bellissima Quindi, raga Ci manca Ho fatto tutto Ruin Outrider Prophet Battery Mi manca Live E ripristino di Nomad Raga Addirittura Tre doppie Con live Per sbloccare Cioppacabra E non è facile Ragazzi C'è gente che veramente Ci ha perso la testa E ci mancano Praticamente Due doppie Due doppie Con il ripristino E queste per forza In veterano Perché se no è Veramente impossibile Questa credo sia La sfida Più difficile da fare Quindi raga Sicuramente ci vediamo Al prossimo video Ora faccio un outro Fatemi sapere nei commenti Cosa volete Nel prossimo video Di Black Ops Magari un dominio Tutti contro tutti Un gioco delle armi Fatemi sapere Raga Ho qualcosa di speciale Magari che ne so Che partita col cecchino Col coltello Con il piede di porco Volete Uno spacchettamento Ecco diciamo Perché sto Raga sto accumulando Tantissime crypto chiavi Ora faccio un attimo Un outro in inglese E poi in portoghese E ci vediamo Sicuramente al prossimo video Raga Ok guys As you already knew And I repeat If you are new The channel I'm alternating video When I talk in italian Like this one With video With my classic video With the music In background Ok guys Let me know In the comments What video Do you prefer Ok For the next time For the next videos If you want a domination Or a gun game Or a free for all And guys If you like If you enjoy The video Please Leave a like Leave a comment And guys I hope you enjoy Stay tuned In the channel Because I have A great video A great collaboration With a dear friend But especially One of the best creators On GTA 5 And it's a Crazy and funny video So guys Stay tuned And see you In the next video Ok guys Finalmente Un gun game Un domination Un uplink Un qualche Jogo Do Black Ops Ok Galera Vamos junto E un abrazo Falou